Evitare la saturazione degli ospedali con i malati covid è l'obiettivo primario di tutto il sistema sanitario nazionale. Anche nel Bassanese la situazione è peggiorata col mese di ottobre e l'aumento continuo dei casi positivi non aiuta nemmeno i medici. Capiamo bene che uno degli obiettivi impellenti è sicuramente quello di riuscire a tenere a casa i pazienti perché gli ospedali sono sottoposti ad un forte stress sia sul lato del protosoccorso che ovviamente dei reparti di ricovero. E quindi è fondamentale una collaborazione stretta con i medici curanti, con certamente gli specialisti che forniscono anche consulenze e quindi un appoggio ai medici che lavorano sul territorio e ai medici delle USCA per riuscire il più possibile a gestire garantendo tutto quello che ovviamente è necessario il paziente nella propria abitazione. Per i pazienti positivi e sintomatici già nella prima ondata della pandemia erano state attivate le USCA, unità speciali di continuità assistenziale formate anche da giovani medici che vanno direttamente nelle case dei malati. Spesso la loro è l'unica presenza possibile. Molto spesso è anche datificante perché queste persone sono molto comprensive nei confronti del nostro ruolo e molto anche quasi emozionate nel fatto che finalmente qualcuno comunque va di Italia a casa, che li segue, che li telefona perché magari molto spesso sono seguiti soprattutto telefonicamente perché ovviamente essendo pazienti covid positivi non possono venire seguiti fisicamente dai propri medici. Sono più fortunati i malati e non sempre anziani che hanno almeno una rete familiare di supporto che riesce a compensare l'isolamento e soprattutto la solitudine.